Bilancio è positivissimo perché è stata una splendida esperienza, faticosa come sempre, ma insomma non esiste un'esperienza così importante che non sia faticosa. Mi è piaciuto moltissimo la gara dei talenti, dei giovani talenti, tutti e otto meritevoli di arrivare a un passo dalla vittoria, meritatissima però la vittoria di Serena Ganci perché è molto bello il brano e interpretato in una maniera straordinaria. Neanche una canzone che mi sia piaciuta di meno, molto di meno, tanti ospiti importanti, peccato che la pioggia abbia un po' rovinato il momento finale, però insomma comunque noi siamo stati là fino all'ultimo istante. La grande sensibilità di un autore come Epifani è andato a scavare nella vita di una badante e con tutte le problematiche che è una persona che per lavorare per gli altri in un paese non suo deve affrontare, insomma lo ha raccontato con una sensibilità davvero toccante, infatti tra l'altro ha vinto il premio della critica e anche il premio come miglior testo credo. Grazie.